Un altro anno sta volgendo a termine e noi della redazione di Obiettivo News abbiamo deciso di farvi gli auguri di un buon Natale e un felice anno nuovo in video mettendoci la faccia. Tanti auguri e continuate a seguirci. Ciao, auguro a tutti un felice e sereno Natale. Buon Natale dalla redazione di Benaglia Reale. Buon Natale a tutti, auguroni vivessimi a tutti. Buon Natale e felice 2018 a tutti gli sportivi. Siamo arrivati anche quest'anno a Natale 2017. Cosa dire, è stato un anno molto impegnativo e per tutti quanti, tante cose sono cesse in Italia e nel mondo e anche nelle nostre zone. Auguriamo a tutti e auguro a tutti una buona fine, un buon Natale, un buon Natale 2017 e un posto 2018. Ciao! Buon Natale ai nostri lettori. Felice e spenserato con la vostra famiglia e con tanto amore. Buon Natale ai nostri lettori.